Non potrai partecipare anche all'incontro dei Grandi Venti? Perché non dargli questa possibilità? In fondo anch'io sono stato un piccolo vento quando ho cominciato. Quindi tu vuoi incontrare i Grandi Venti anche se sei un pargoletto che conosce a malapena la sua ballata. E va bene, e va bene, ne parlerò col Grande Vento del Nord. Tornatela qualche giorno e ti farò sapere la sua risposta. Non ho voluto farti uno scherzo. Immaginati la fine del mondo. È là che devi andare se vuoi incontrare i Grandi Venti. Si riuniscono al Castello d'Aria, ma la strada per arrivarci è dannatamente lunga. Allora devo allenarmi. Ma che cosa gli succede? C'è grande inquietura tra gli animali perché il piccolo vento sembra impazzito. Persino la gente si sta lamentando perché soffi nei loro cammini. hai incontrato il vento del ghiaccio che gli ha raccontato del raduno di Grandi Venti e adesso ci vuole andare. Si sta allenando. Ma quelli non li inviteranno mai, no? No, fai giovane e ancora ingenuo. Credo che il vento del ghiaccio riuscirà a procurargli un invito. Non credo proprio che ci sia molto da preoccuparsi. No, non credo. Lei ha dei abeti neri e là ci sono gli elfi ma mi daranno un po' di confusione. Allora mi devo andare dallo spirito della foresta. Lui mi indicherà il mare del ghiaccio e le balene mi porteranno hop 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 al castello d'aria. Lei è abiti. Lei è abiti. Lei è abiti. Ma cosa diranno qui nella valle se te ne vai così senza dir niente? E tu? Perché fatti i bagagli? Fatti pure tu? Eba, io e gli animali della valle abbiamo discusso sul da farsi, siamo giunti a questa conclusione. Allora, se noi due seguiamo Saghir, possiamo dargli una mano ad aiutarlo il più presto possibile. Ah, e perché lui? Poi mio, lui non vorrà essere accompagnato. Ma lo seguiremo di nascosto. Ah, ma perché io? Alla mia età, un viaggio del genere. Poi non ho ancora fatto colazione. Ecco, questa è per la sua colazione. Però andiamo, dai. Se no perdiamo di riscaldare. Ah, 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 ah. Grazie. 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 Sì. Vedi quel via alberato? Seguilo. E arriverai fino al mare. Ma aspetta. Ricordati. Al ritorno dal castello d'aria. Fermati a raccontarmi com'è andata. Sono proprio curioso di sapere come andrò a finire. Sì. Wow. E' il vento delle rocce. A che dove hai il castello d'aria? Sì. Devo andarci anch'io. Allora andiamoci insieme. Facciamo la corsa. Un, due. Un, due. Un, due. E' un, due. E' un, due d' Provincio. Grazie a tutti. La 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 la. Salve, sono Sagir, è il vento della ballata verde. Sono il vento dei corridoi. Hai partecipato ad aggiungere sempre voi? Io sono sempre qui nel castello. Sei nuovo qui al castello, un anerottolo? Salve, sono Sagir, è il vento della ballata verde. Tu sei Sagir, il vento della ballata verde. Io sono il grande vento del nord. Non ti immaginavo così piccolo. Guarda, il nostro piccolo eroe. Ma come alza la cresta? Ma che ci siamo venuti a fare qui? Fino a rifilato tutto liscio, siamo perfettamente inutili. Ho seguito una civetta completamente mazza e mi sono ficcato in un'avventura senza senso. Uno lo sa solo dopo che mi vuoi essere d'aiuto. Salve, sono Sagir, il vento della ballata verde. Salam. Io sono Sagir, grande vento d'oriente e dei deserti. Portami qualcosa di caldo da bere. Forse mi aiuterà a sopportare il freddo che c'è qui. Volentieri? Ma non saprai dove prendere una bevanda calda? Se hai voglia di scherzare, hai trovato il vento giusto. Per fortuna che ti piacciono gli scherzi. Che è il vero nemico di Leonardo da Vinci? Leonardo da Perdi. Fa venermi a vedere. Non venermi a raccontare Barcellet. Ma dove l'abbiamo trovato questo babbe? Ma Sagir non è un servitore del castello. Sagir è il vento della ballata verde. Ed ora do inizio ufficiale al raduno dei grandi venti. E il primo che prenderà la parola per raccontare i suoi terrificanti imprese sarà il grande ciclone. Io, grande ciclone, vi racconterò tutto ciò che ho visto e vissuto lo scorso anno. Nella mia patria c'erano grandi pianure, molti laghi e colline. E poiché il paesaggio era diventato così bello e il terreno così fertile molti uomini cominciarono ad arrivare. Ma cominciarono a costruire case, strade. Si misero perfino a coltivare campi. Ma alla fine dell'estate cominciai ad averne abbastanza di tutto questo movimento. E così decisi di far vedere chi sono io. Volai giù nell'oceano cittostante e tornai sulla terra scone domine e cominciai a distruggere tutti i loro campi di grano. Scoperchiai casi, tutte le loro case e anche queste quando rigidea ah 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 ah! E per paura! E io sradicavo alberi, alberi, alberi e tutto quello che mi capitava fra le mani ah ah! Ah ah! Lo riducevo pezzettini! Ed ora la parola All'uragano Catrina Mi chiamo Catrina E sono il terzo uragano maggiore del mondo Undicesima tempesta tropicale Io regno sul mare di Atlanta E il 23 agosto Ho cominciato il mio Viaggio distrutto Sopra le isole dei mari bassi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 160, 180, 220, 240, 240, 280, 280, 280 Palm Beach Miami Beach, Baitona Beach, Alabama, Mississippi, Louisiana, Santa Catania, Mississippi, grande, sempre più grande e forte, sempre più forte. Aiuto! Aiuto, salvatevi! Salvate i miei bambini! Aiuto! Attenzione, attenzione! Abbandonate le coste! Evacuate le case! Evacuate le scuole! Via! Via!